Si è presentata sorridente in giacca scura accompagnata dal suo difensore in tribunale a Milano, Lara Comi, l'ex eurodeputata di Forza Italia finita ai domiciliari lo scorso 14 novembre per l'udienza davanti ai giudici del riesame nella quale si discuterà la richiesta di arrevoca della misura cautelare avanzata dalla sua difesa. Il collegio poi si riserverà e deciderà nei prossimi giorni se confermare l'ordinanza o rimettere l'ex parlamentare europeo in libertà. Comi è stata arrestata in una tranche della max inchiesta mensa dei poveri su un sistema di mazzette, nomine e appalti pilotati, finanziamenti irregolari alla politica in Lombardia con le accuse di corruzione, truffa aggravata al Parlamento europeo, finanziamento illecito e false fatture. La difesa nei giorni scorsi oltre a far ricorso al riesame ha depositato anche alla procura di Milano che chiede che Comi resti ai domiciliari una richiesta di confronto tra l'ex europarlamentare, l'ex coordinatore Varesino di Forza Italia, Lino Cajaniello, presunto burattinaio del sistema, Maria Teresa Bergamaschi, avvocato e collaboratrice di Comi, e il giornalista ed ex addetto stampa Andrea Aliverti, tutti coinvolti nelle varie imputazioni contestate all'ex europarlamentare e che hanno già reso dichiarazioni utili ai PM Bonardi, Furno e Scudieri. In un recente verbale, tra l'altro sempre Cajaniello, ha confermato il quadro accusatorio nei confronti di Comi e anche dell'ex direttore generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale, finito in carcere, sull'imputazione di corruzione e riscontri sulle contestazioni sono arrivati anche da altri verbali. Il 18 novembre Comi si era difesa per quasi cinque ore nell'interrogatorio davanti al G per Raffaella Mascarino, assistita dall'avvocato Gian Piero Biancolella. Il legale, dopo l'udienza a porte chiuse, ha spiegato anche che la procura non ha provveduto ad accogliere la richiesta difensiva di un confronto tra l'ex europarlamentare, l'ex coordinatore Varesino di Forza Italia Cajaniello, presunto burattinaio del sistema, Maria Teresa Bergamaschi, avvocato e collaboratrice di Comi e il giornalista ed ex addetto stampa, Aliverti. Una cosa che secondo il legale andava fatta, date le anomalie e l'incongruenza tra le dichiarazioni, ma hanno ritenuto di non farla. Per la difesa Comi deve tornare libera anche perché non c'è il pericolo di reiterazione del reato, visto che non è più parlamentare europeo.